Sta esplodendo nel mondo il business dei filtri. I creatori di contenuti sui social come Instagram e TikTok possono creare dei filtri per i video che gli utenti possono usare gratis. Creare filtri da far usare gratis permette a questi creatori di contenuti di aumentare il numero di follower molto velocemente. Le aziende invece possono creare filtri di realtà aumentata per promuovere i propri prodotti e far conoscere sempre di più il proprio brand. Meta di Facebook mette a disposizione un programma che si chiama Spark che permette di realizzare filtri altrimenti è possibile andare sul sito Fiver e trovare persone che li creano per pochi euro. Creare filtri di realtà aumentata è una tendenza che tira molto e dovresti usarli per fare marketing. Prova